CUP fuori uso per attacco hacker, da domani si complieta il ripristino dei servizi. Assalto al pullman della Recanatesi, individuato un responsabile, caccia ad altri due ultras della VIS. Politiche sociali, Lanzi e Boccanera puntano sul welfare che produce risorse. Verso le elezioni, Belloni pensa a un nuovo funzionamento dell'Unione dei Comuni. Acqua e danni d'alluvione, a Fano nuovo potabilizzatore, a Cagli nuove fognature. Mercoledì 22 maggio, una buona serata a tutti voi amiche e amici di Rossini TV, ben ritrovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale Rossini News. Notiziario del Canal 80 che apriamo questa sera occupandoci del guasto che da sabato notte ha mandato fuori uso il CUP, vale a dire il sistema regionale di prenotazione delle visite sanitarie. Oggi sono stati ripristinati gran parte dei servizi per un rientro a totale regime che però è previsto soltanto per domattina. Alla base del guasto c'è stato un attacco hacker, un assalto informatico che in questo primo servizio analizziamo anche con il parere di un esperto in materia. E' stata ripristinata la maggior parte delle funzioni del CUP regionale che tornerà alla piena operatività dalla mattinata di domani 23 maggio. Il sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie è andato in tilt da sabato sera a causa di quello che dopo accertamenti si è rivelato un attacco hacker. Attacco che secondo la direzione del servizio sanitario regionale non avrebbe violato i dati archiviati limitandosi a mettere fuori uso i canali delle prenotazioni. E dire che appena un mese fa la regione aveva stanziato 13 milioni di euro per potenziare il sistema. Una vulnerabilità di sistema sulla quale è intervenuto oggi anche un esperto del settore come Flavio Ubaldi, direttore commerciale Fibra Web S.P.A. nell'ambito di un convegno tenuto sia a Fano sulla mappatura delle aree coperte da fibra ottica nella terza città delle Marche. L'unica cosa che è qui ci tengo a sottolinearlo sicuramente è di slocare quelle che sono le informazioni in più, datacenter, infatti è un po' il progetto che sta facendo la regione Marche, siamo in contatto anche noi e era un progetto che era scambio di postazioni tra l'Umbra e le Marche per cui datacenter che si parlano tra di loro eccetera. Però per fare questo ci vuole un po' di tempo e a tutti gli effetti c'è necessità di infrastrutture come la fibra, questo è chiaro. per cui diciamo uno degli strumenti più importanti per difendersi è dislocare le informazioni, tenerle non riscrivibili per cui backup e costruire sistemi di disaster recovery che permettono immediatamente di attivare un centro servizi fuori dal punto in cui c'è stato l'attacco. Dislocare le informazioni ma anche investire sull'analisi della vulnerabilità. Chiaramente un attacco a un servizio pubblico fa più rumore di un qualsiasi altro attacco per cui diciamo io dico che potrebbe rientrare nella normalità, chiaramente invito tutti a ragionare su quelli che possono essere gli elementi esposti per cui noi con l'Università di Ancona abbiamo portato loro stessi che sono esperti in alcune aziende proprio per fare analisi di vulnerabilità. Questa è una delle cose che suggerisco più velocemente possibile, analizzare le vulnerabilità. È stato individuato dalla Digos uno dei tre responsabili dell'assalto con lancio di oggetti contundenti al pullman dei tifosi del Re Canatese. L'episodio risale a domenica sera con quella che secondo gli inquirenti è stata una sorta di agguato al casello autostradale dei confronti dei quattro pullman dei tifosi in procinto di rincasare dopo lo spareggio play-out giocato al Benelli con la Vispesero. A pagarne le conseguenze proprio il pullman che ospitava famiglie e bambini delle giovanili. Il responsabile individuato sarebbe stato incastrato da immagini di videosorveglianza e monitoraggio di scambi di messaggi sui social. Era incappucciato al pari degli altri due soggetti che si stanno cercando di rintracciare. Ed ora lo spazio dedicato alla politica in vista delle elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno. A Pesaro questa mattina due conferenze tematiche di due schieramenti. Cominciamo da quella legata al welfare secondo la coalizione a sostegno della candidatura di Marco Lanzi. Se dovessi diventare sindaco vorrei essere ricordato per aver reso la vita più facile alle persone fragili. Marco Lanzi parte da questa affermazione di prospettiva nell'avviare la prima di una serie di conferenze stampa tematiche proposte dalla coalizione a sostegno della sua candidatura a sindaco di Pesaro. Lanzi parte dal sociale da lui stesso definito la priorità fra le priorità al punto che farà convergere sul tema la sinergia di tre uffici amministrativi quello dei lavori pubblici, dell'urbanistica e degli stessi servizi sociali. Questa sarà la nostra prima grande svolta, ci crediamo tantissimo. Infatti nelle nostre liste civiche ci sono molte persone che da anni prestano proprio un'attività concreta nel mondo del sociale e per questo sono veramente circondato da persone competenti. È importante non fare interventi così ogni tanto estemporanei ma nel terzo settore è importante programmare. Per questo abbiamo deciso di mettere insieme, la prima cosa che farò se diventerò sindaco e di far interagire i tre assessorati che avete appena nominato proprio per programmare gli interventi sul sociale perché senza programmazione i risultati non si ottengono. Credo che questo sia un modo veramente per ridare dignità a tante persone che incontrano grandissime difficoltà soprattutto in momenti di grossa crisi economica e sociale come questa. Non li possiamo lasciare da soli e quindi anche se dovremmo togliere risorse altri settori per noi veramente la priorità delle priorità lo dimostra è quella del sociale e per questo la prima conferenza tematica, questa è soltanto la prima, l'abbiamo decisa affrontando questo argomento. Ad affiancare Lanzi nella pianificazione di strategia di welfare Andrea Boccanera, da sempre impegnato nel settore e ora capolista dei civici Pesaro. Per Boccanera il cambio di prospettiva sarà il passaggio da un welfare estrattivo che è stato finora preponderante nell'amministrazione uscente, verso welfare generativo che produca risorse e finora circoscritto a pochi casi. Il welfare generativo è un nuovo modo di pensare dove il welfare può generare economia in città e non essere una perdita o un buco. È una cosa molto difficile da comprendere ma è la nuova via per gestire il welfare che altrimenti poi nel tempo con questa famosa coperta che è sempre più corta andrà a scomparire. Welfare generativo come criterio trasversale in cui ripensare diverse politiche, da quella abitativa ad un'accelerata sul PEBA, da un'integrazione di Aspes nelle politiche sociali fino agli stessi centri diurni. Tutto quello che è sociale in città, che per oggi noi abbiamo la visione che deve essere una spesa, quindi un buco, deve essere portato ad essere una cosa viva che crea economia. Pensiamo solamente ai centri diurni per ragazzi divisabili, una spesa folle ogni anno, invece dobbiamo essere ripensati per dare vita ai ragazzi e quei centri devono produrre economia. Le altre realtà dell'Europa ne lo fanno, dobbiamo farlo anche a peso questa cosa qui. Ogni centro diurno deve essere un centro di produzione o di un servizio, di un bene, di un qualcosa che porti economia e riesca a far vivere quel centro di vita propria. Dal rivedere l'Unione dei Comuni a ripensare la politica di acqua e rifiuti. Questi invece i temi emersi dalla conferenza di questa mattina della lista civica Una città in comune di Enzo Belloni. Rivedere il funzionamento dell'Unione dei Comuni, ripensare le politiche riguardanti la gestione dell'emergenza idrica e del trattamento dei rifiuti. Una città in comune, Lista civica di Enzo Belloni, che sostiene la candidatura a sindaco di Pesaro di Andrea Biancani, ha tenuto oggi una conferenza stampa per mettere sul piatto tre linee d'azione elettorali. Prima l'Unione dei Comuni, in cui secondo Belloni Pesaro genera un 70% di risorse, per poi ritrovarsi in un 30% per i servizi ai propri cittadini. Una situazione per Belloni reputata sbilanciata, soprattutto per la Polizia Locale. L'obiettivo è quello di rivedere in maniera importante il progetto, il tema dell'Unione dei Comuni, magari lavorare e spingere di più sulle convenzioni, avere un ruolo diverso rispetto alla gestione della Polizia Locale. Ci piacerebbe pensare che la Polizia Locale ritorni in completa disponibilità dell'amministrazione comunale e questo ci permetterebbe anche di avere le risorse per aumentare il numero di agenti a servizio della città. La sicurezza non si fa solamente con le telecamere, ma si fa anche con gli agenti di Polizia Locale che quotidianamente si spendono per il bene dei cittadini. Belloni mette l'accento sul tema delle emergenze idriche che continuano a ripetersi e pone la riflessione sulla realizzazione degli invasi da ragionare e progettare in tempi celeri. Discorso analogo su un tema rifiuti che necessita una presa di posizione a fronte di discariche in esaurimento. Poi una riflessione anche sul neonato Auditorium Scavolini che deve accelerare sull'aspetto sportivo della sua polifunzionalità. Noi chiediamo che è un impianto sportivo storico dove ci sono stati scudetti nella palla canessa, scudetti nella palla volo e anche risultati importanti nel pugilato perché noi abbiamo una bella officina di campioni che nel pugilato ritorni ad essere anche un contenitore sportivo, non solo culturale e questo lo possiamo fare decidendo di utilizzarlo per un paio di weekend al mese, si dà la federazione sportiva, si dà l'indisponibilità che per il secondo e il quarto weekend di ogni mese, mentre il primo e il terzo può essere utilizzato e dovrà essere utilizzato per riportare in centro alcune discipline sportive. Evitare di spostare i canestri tre volte al giorno al padiglione D e magari lasciare al padiglione D la palla volo il calcio 5 e riportare alle origini, quindi al vecchio palazzo dello sport, la palla canestro, visto che in questo momento abbiamo tre squadre, tre società che sono in serie B e quindi la capienza dell'auditorium è una capienza tale che permette di ospitare quei campionati, può essere un segnale importante per tutta la pesa sportiva. E in tema di emergenza idrica, oggi a Fano è stato inaugurato il nuovo potabilizzatore di Aset in zona Chiaruccia che consentirà un approvvigionamento costante di acqua potabile anche nei momenti più critici dell'estate. L'impianto è costato poco più di 3 milioni di euro ed è previsto nel piano dell'investimento Atomarche Nord effettuerà una potabilizzazione dell'acqua di falda attraverso il sistema dell'osmosi inversa consentendo di contare su ben 100 litri al secondo di acqua in più rispetto ad oggi, ovvero 360 mila litri in più ogni ora. Una soluzione concreta per i fanesi soprattutto nelle fasi di emergenze dovute alla siccità estiva. E da Fano passiamo a Cagli, una città sulla quale invece Marche Multiservizi mette a terra 6 milioni e 800 mila euro pervenuti dalla struttura commissariale per l'emergenza alluvione di settembre 2022. Investimenti che sono canalizzati sulla realizzazione del nuovo sistema fognario di Cagli gravemente danneggiato appunto dall'alluvione di un anno e mezzo fa. L'intervento sarà realizzato da Marche Multiservizi che nei giorni scorsi ha provveduto ad affidare l'incarico per la progettazione e dentro la fine dell'anno darà il via ai lavori del sistema fognario. E ieri sera siete stati tanti voi telespettatori che avete seguito la puntata di Amministrando il nostro format dedicato alla politica e incentrato ieri sera sulla città di Urbino con il confronto elettorale tra i tre candidati sindaci. Tanti i temi trattati compresa la gestione del caso di scarica di riceci che andiamo a rivedere in questo estratto della puntata andata in onda ieri. Si fanno le cose ma sembra che siano scollegate l'una dall'altra perché se si punta sul turismo rurale, ripeto, ma allora perché la discarica di riceci? Perché? Ma non si può dire che non c'entra niente il comune di Urbino perché il comune di Urbino, il suo consigliere ha votato, il nostro sindaco è vicepresidente della provincia che determina le autorizzazioni. Cioè non facciamo, ecco, è capito, finta di nulla. Sono finto per chiarire questa cosa di riceci perché l'ho chiarita molto bene, però ancora continuo a fare questa cantilena. Vanno con le bandiere lì, però io il primo di marzo ho chiesto una riunione urgente di Marche Muservizi al presidente di Marche Muservizi per non, perché la provincia fa l'autorizzazione, ma non è che può decidere di chiudere il procedimento prima della conferenza di servizi. Io ho detto a Marche Muservizi, a tutti i soci, compreso Aera, riuniamoci, ma io ho chiesto con una PEC formale a tutti i sindaci della provincia, al presidente di Marche Muservizi, riuniamoci per decidere di ritirare il progetto e di farlo da un'altra parte perché la discarica serve. L'unica cosa che ho detto positiva, che contrariamente quella che la discarica non serve, invece io dico che serve, ma la riunione non è stata fatta. Il 23 di aprile c'è l'assemblea dei sindaci per il bilancio, ma a questo punto è stata messa, la discarica la vuole, il sindaco di Pesaro, tutti gli assessori di Pesaro che sono dei verdi, 5 stelle, comunisti e socialisti, non il contrario. Ci sono le carte, non è... Scaramucci? Noi siamo per il nuovo discarica di riceci senza se e senza ma, lo abbiamo sempre ribadito con la nostra coalizione di Urbino, il sindaco Gambini fa le PEC, noi invece pensiamo che bisogna collaborare con il territorio, con i comuni attorno, bisogna fare degli accordi politici come noi stiamo facendo già fin da adesso, perché poi quando si va nell'assemblea territoriale di ambito non basta sventolare le PEC o le mail, ma bisogna collaborare con gli altri comuni, bisogna avere la pazienza di fare degli accordi, delle trattative, non fare la voce grossa e poi non ottenere nulla. Inoltre noi non diciamo solo no perché siamo degli ambientalisti ideologi, ma anche perché abbiamo altre idee di sviluppo e di turismo sostenibile, perché pensiamo che la gestione del ciclo dei rifiuti vada gestita in maniera diversa, perché pensiamo che la gestione del ciclo dell'acqua, che è un tema che riguarda i comuni, ma anche le imprese, perché anche tante imprese sono preoccupate di quella che è la situazione dell'acqua e non è stata affrontata in questi anni, quindi i discorsi stanno a zero, no PEC ma tanta collaborazione con gli altri comuni. E restato in tema di elezioni amministrative, per chi ha seguito l'edizione di ieri di Rossini News, abbiamo avuto ospite nei nostri studi la candidata sindaca di Acqualagna, Laura Biagiotti, questa mattina invece ci ha fatto visita all'altro candidato sindaco, ovvero Pierluigi Grassi, che ha illustrato le sue linee elettorali in questa intervista. Dalle elezioni amministrative del prossimo 8 e 9 giugno il comune di Acqualagna uscirà con un nuovo sindaco, da una parte c'è Laura Biagiotti, dall'altra Pierluigi Grassi, che ha un'esperienza nel comune di Acqualagna, sia come consigliere che come assessore. Grassi, le chiedo in questa nuova avventura quali sono i punti di continuità rispetto a quella che è stata l'amministrazione uscente e quelli che poi sono invece gli aspetti migliorativi sui quali si punta. Allora, per quanto riguarda la mia esperienza, devo dire che essa nasce molto più lontano di quella dell'ultima esperienza amministrativa di Luca Lisi. Io sono stato assessore consigliere all'epoca del compiatto Vittio Lucerini e in quel periodo Acqualagna ha vissuto il suo momento di grande espansione. Quindi sono l'unico delle due liste che ha la memoria storica ed è testimone di un periodo che va dagli anni 60 ad oggi di grande crescita a tutti i livelli del nostro comune. Quindi io porto un'esperienza che va oltre l'ultima amministrazione. Per noi è un libro aperto dove le pagine che scriveremo le scriveremo sull'onda di un'esperienza già fatta che nasce 60 anni fa. Che Acqualagna vede dal 10 di giugno in poi? Allora, un Acqualagna che ha la memoria di quello che è stato nel passato ma che non rinuncia a migliorarsi e a valorizzare tutto quello che abbiamo, incominciando dalla Fiera del Tertufo che noi vogliamo portare a un livello internazionale in un momento di grande globalizzazione. E agganciato al Tertufo noi vogliamo trascinare anche tutta un'economia locale come ad esempio la Pietra, il distretto della Pietra che è stato sempre un cavallo di battaglia di Acqualagna. Quindi Tertufo volano di crescita dell'intera comunità, dell'intera economia locale. Come è composta la squadra a sostegno di Pierluigi Grassi? Allora, la squadra è composta in maniera variegata ed equilibrata. Ci sono esperienze di persone come me che hanno vissuto, fatto 40 anni di attività in quel di Pesaro perché io ho lavorato 16 anni come autista soccorritore nella Croce Rossa di Pesaro che mi ha arricchito moltissimo sul piano umano e altri 24 anni come funzionario amministrativo presso aziende ospedaliere a Marche Nord. Poi ci sono altri colleghi come il mio collega Magnanelli pensionato, ex direttore del primo servizio ragioneria del comune per 25 anni che ci porterà sicuramente un vantaggio di conoscenza dei meccanismi del bilancio e dei finanziamenti. Poi abbiamo un altro collega che è stato nel mondo bancario Alessandro Bugatti. Poi abbiamo un altro collega che è stato funzionario importante della motorizzazione civile qui a Pesaro e il resto sono giovani a cui noi vogliamo trasmettere la nostra esperienza perché per impegnarsi per il proprio comune non c'è un'età e la funzione di ognuno di noi è quella che è dettata anche dall'esperienza. Quindi noi vogliamo trasmettere l'esperienza ai giovani ai quali consegnare il futuro del Paese. Domani giovedì 23 maggio sarà a Pesaro l'onorevole Angelo Bonelli portavoce nazionale di Europa Verde. Due i momenti previsti, alle 12 una conferenza al Teatro Cinemastra alla presenza tra gli altri del candidato sindaco Andrea Biancani e poi alle 15 Bonelli sarà ad Utopia del Parco Miralfiore dove incontrerà i candidati alle amministrative della lista Alleanza Verdi Sinistra a Pesaro. Venerdì 24 maggio alle 18 sarà invece a Pesaro a Palazzo Gradari la senatrice vicepresidente della Commissione Giustizia Ilaria Cucchi che in occasione della rassegna di Pesaro 2024 Incontri Capitali terrà l'Alexio Magistralis dal titolo Dal paradosso all'utopia possibile, il carcere come luogo di cultura. La Cucchi affronterà dunque le problematiche delle carcere a partire dalle tristi vicende di cronaca degli ultimi anni. E' sempre venerdì 24 maggio ma ad Urbino il regista e scrittore Marco Bellocchio sarà insegnato del titolo di accademico d'onore dell'Accademia delle Belle Arti di Urbino e riceverà il sigillo delle arti. Onoreficenza creata congiuntamente dall'Accademia e dall'Università per la libera originale inventiva zona franca espressa nel cinema mondiale mediante l'inconfondibile prassi narrativa e rappresentativa che riassume la cifra polistilistica del cinema di Bellocchio. Nell'Aulamagna dell'Accademia di Belle Arti alle 10 in programma la proiezione del film Buongiorno Notte mentre la cerimonia di consegne del sigillo si terrà alle 15 e 30. Ed invece conto alla rovescia per il ritorno di Brodetto Fest a Fano. Il grande evento della tradizione culinaria marinara propone dal 30 maggio una ricchissima 22esima edizione. 30 e 31 maggio, primo e due giugno. Quattro giornate per 50 eventi, 30 ospiti e 5 mila brodetti pronti a celebrare il piatto simbolo della tradizione marinara fanese. Brodetto Fest è pronto a riaccendere l'estate di Fano con la Kermes presentata dalla macchina organizzativa di Confesercenti presso la sede di New Copromo. Il Brodetto era scomparso 20 anni fa dalle tavole della ristorazione locale. Abbiamo riscoperto una ricetta che oggi la troviamo su tutti i menu dei ristoranti non solo fanesi ma di tutta la provincia. Un piatto riconosciuto a livello internazionale, tant'è vero che lo scorso anno lo abbiamo portato nella città di Londra davanti a tutti i ristoratori italiani a Londra e l'abbiamo portato alla Fiera Mondiale della Pesca. Già da Barcellona abbiamo visto che la manifestazione sta assumendo dei connotati, non dico più nazionale ma internazionale, riconoscimenti ne abbiamo avuti a Iosa, continuiamo ad averne. Il ministro proprio a Barcellona ci ha fatto un bel regalo come unica associazione per il momento candidata per il patrimonio mondiale dell'UNESCO per la cucina italiana. Dietro questo piatto non c'è soltanto il pescato dell'Adriatico, il lavoro dei nostri pescatori, di tutta la marineria ma c'è anche il discorso ristorazione, c'è il discorso della promozione di tanti altri prodotti che vanno dai vini di abbinamento, i vini delle Marche, ma abbiamo sempre lavorato anche con il bianchello del Metauro e tutte le altre eccellenze della città e di questo territorio. Curiosità e attenzione anche sul ritorno della gara nazionale dei brodetti e delle zuppe di pesce. Sarà presente la Liguria, vincitrice della scorsa edizione con il Ciupin e sarà presente la regione Marche e ben altre sei regioni. In realtà in totale sono otto regioni, verranno giudicate da una giuria popolare e una giuria tecnica. Ci sarà la collaborazione con Italia Tavola ed infatti uno dei componenti della giuria tecnica è Alberto Lupini, il suo direttore. Non mancheranno sicuramente gli ormai consueti, tradizionali e tanto aspettati cooking show. I cooking show vedranno l'esibizione di chef stellati. Ci sarà sicuramente Igles Corelli che nella sua carriera vanta ben 5 stelle Michelin. Ci sarà Andrea Aprea, chef napoletano che ha aperto di recente un ristorante bistrò nel milanese e vanta ben 2 stelle Michelin. Un anno fa la riscoperta dell'abbinamento con la birra, quest'anno focus sulla vongola. Avremo uno spazio dedicato alla vongola e gestito da un ristoratore fanese insieme all'azienda Copromo. E' attesa poi una ricca carrellata di super ospiti fra cinema, teatro e musica. Sarà il giovedì 30 maggio con Sergio Rubini, attore, scenografo e regista, quindi veramente un'icona del cinema italiano. Il giorno successivo, il 31 di maggio, sarà la volta di Parasole, comico, umorista, scrittore, che con la sua comicità, con il suo umorismo, tratta sempre temi di importanza notevole come l'ambiente, la sostenibilità, la cura della sana alimentazione. Il giorno successivo, il primo di giugno, sarà la svolta musicale. Sul palco centrale, alle 9.30, si esibirà Simona Molinari, cantautrice pop, jazz, che vanta ben due presenze al Festival di Sanremo come concorrente e ben altre due presenze come ospite. Il 2 giugno sarà la volta di Renzo Rubino e la Sbanda, che con il loro spettacolo musicale e tradizionale sarà sicuramente coinvolgente per il pubblico e sarà un spettacolo tutto da vivere, cantare ma anche ballare. E si conclude qui questa edizione del nostro telegiornale Rossini News. Prima di salutarci vi ricordiamo però alcuni appuntamenti in questa serata di mercoledì 22 maggio, a cominciare dall'appuntamento fisso di lunedì, mercoledì e venerdì alle 20, così come alle 8 di mattina e alle 13, lo spazio con il magazine La Natura della Cultura a cura di Teobaldo Bianchini, anche questa sera un nuovo spazio dedicato agli approfondimenti di Pesaro, capitale della cultura 2024, spazio che potrete poi vedere riassunto il sabato e la domenica con le tre puntate della settimana, il sabato alle 12 e alle 19 e la domenica alle 15 e alle 21. Prima serata che continua proprio alle ore 21 con le storie della Onlus Gulliver, terza puntata di questo format dedicato alla fiera regionale del riuso, questo il tema della terza puntata. A seguire alle 21 e 20, spazio alla politica, vi proporremo uno spazio elettorale inerente al candidato a sindaco di Pesaro della coalizione di centrosinistra Andrea Biancani. E infine spazio alla cultura alle 21 e 40 con il nostro speciale realizzato in occasione della notte dei musei in viaggio nella storia, come detto appuntamento alle 21 e 40. E poi naturalmente vi ricordo l'appuntamento con l'informazione di Buongiorno Rossini, la nostra rassegna stampa dei quotidiani locali che vi tiene compagnia come sempre in diretta dalle 7.20 dal lunedì al sabato. Buongiorno Rossini che domani, giovedì 23 maggio, sarà condotto dalla nostra direttrice Emanuela Rossi. Si conclude invece qui lo spazio informativo di Rossini News, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei programmi del Canale 80. Grazie. Grazie.